No, se te lo dice mentre è in Puglia, in vacanza. Ah, eh, oh, lo chiamo? Lo videochiamo? Non lo so. In che senso lo videochiamo? Di certo gli devo togliere quella voglia. La tana del frerito, oh, oh, oh. Ciao, Broderigno. Ciao. Ciao, raga. Finalmente una volta. Vai, facciamo così, invertiamo la situazione. Io non lo so. Invertiamo la situazione. Facciamo così, invertiamo la situazione. Tu sei la proprietaria del canale e noi due siamo gli ospiti. Vai. È tosta così. Vabbè, io dovevo raccontare una cosa che mi è appena successa, ovvero ho appena scoperto che le coccinelle puzzano quando muoiono. Quale sono le cimici? Giuro che anche le coccinelle puzzano. Ne ho appena uccisa una sul lampadario. Vabbè, magari aveva il cagotto della puzzata. No, 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 no. Sì, la tipa non sono. Vabbè, dai. E qui sono pure i cimici. Vabbè, introducici e facci tutto. Fai tu. Allora, è il tuo canale, tutti conoscono te e la gente non conosce noi. Al contrario, vai. Ciao. Ciao, ragazzi. Oggi abbiamo due ospiti speciali. Ciao. Ciao. E Jody. Ciao. Come va? Ciao. Bene, voi? Tutto bene? Bene. Bene. Cosa fate qua stasera? Perché siete invitati? Siamo entrati. Come mai siete entrati nella mia live? Perché non volevamo perdere il treno dell'hype. E poi volevamo fare due chiacchiere, amicali. Ok. Amicali, perché sei fidanzata, forse. Sì, sono fidanzata. Felice ventissimamente fidanzata. Sì, da due anni ormai. Complimenti. Sì, è proprio... Lo ami alla follia. Sì. Da morire proprio. Quanti anni hai, Gaia? 20. Cioè, a settembre faccio 20. Sono del 2002. A Geren. A Geren, sì, sì, sì. Sì, perché ho visto quando eri in live con una ragazza che ha l'età di mio fratello e sembra più grande di me, quella bellissima ragazza che non mi ricordo come si chiama, ma comunque ok, e mi sono spaventata. Però io sono maggiorenne. Tu sei maggiorenne. E che cosa fai nella vita per dimostrare di avere l'età che hai? Faccio l'università. Che cosa studi? Almeno faccio comunicazione di imprese e relazioni pubbliche. Alla Yulm. Sì. Sei scritta sul suo profilo e vista? Sì. Ho visto anche tutte le storie in evidenza io. Bene. È tutto. Ma tu metti le storie in evidenza perché vuoi sentirti estragnata da questo mondo bastardo? No. No, in realtà ce l'ho da una cifra. Quelle storie sono anche di due anni fa, quindi non le ho più modificate da un sacco di tempo. Dovrei anche toglierle perché alla fine non servono a niente. Se il tuo ragazzo ti dici se fa un culo toglile? No, devo cedere io se le tolgo, no. Ok. Se il tuo ragazzo mentre va in giro, cioè se il tuo ragazzo ti si lamenta di come sei vestita mentre va in giro, cosa fai? No. Non lo fa o... No, non lo fa perché è un ragazzo intelligente e io in realtà ho avuto un'altra relazione in cui lui era proprio così. E quindi basta. Cioè il mio ragazzo non è mio padre e non mi dice come devo vestire. Poi ovviamente sta anche a me essere nel limite della decenza, però. E lasceresti il tuo ragazzo fare quello che vuole? Sì. Se vuole dormire da un'amica? Vabbè, oddio. Sua migliore amica? Ha una migliore amica il tuo ragazzo? No. E tu? Sì. Hai un migliore amico? Ce l'avevo. Ormai non ho avuto. No, no. No, per fortuna no, però non è più così tanto amico come prima. Come mai? No, per vari giri che ha preso lui, che ho preso io. Ah, tipo ho cominciato a scraccare? No. No. No, però in generale amicizie diverse, vite diverse. Ma sei dichiarato a te tu l'hai frenzonato, classico? No. Non è mai successo. Non è mai successo? E tu non l'hai mai amicchiato un po'? No. No? No. Come mai? Zero? Zero. Proprio amico amico. Poverina. Ma lo conosco da una vita. Sì, vabbè, lui si sarà innamorato di te come Ron si era innamorato di Kim Post. E per me si è allontanato da lei perché non ce la faceva più. A posto. Sì, non ce la faceva più supportare questa situazione. Se la ride, ma intanto lui è a casa che se la piange, probabilmente con una canna in bocca. Ma, vabbè, no, volevo chiederti, se il tuo ragazzo ti dicesse, guarda, io stasera ho voglia di far sesso, cosa ti risponderesti? Ok. No, però... Mi ha detto ok. È giusto, eh? No, no, no. Una relazione bella, questa cosa ci sta. Ok, ma facciamo così. Se lui ti scrive, io stasera ho veramente voglia di fare sesso. Tu gli scrivi ok, no? E quindi poi non vi sentite tutta la serata, arriva la mattina. No. Beh, ho svuotato e dice, ho fatto. Cosa gli dici? Eh, ma lui ti dice, cioè, mi hai detto tu che potevo. No, se te lo dice mentre è in Puglia, in vacanza. Ah, eh, oh, lo chiamo? Oh. Lo videochiamo? Non lo so. In che senso lo videochiamo? Di certo gli devo togliere quella voglia, altrimenti fa... Cioè, oh. Ma... Perché ti è mai capitato di fare, tipo, delle sex call? Se posso, ovviamente. No. No, sto pensando, non ce l'ha mai stato bisogno. Però, se ci fosse il bisogno, ovviamente. Ah, beh, è il mio ragazzo, cioè. Giusto, giusto. Secondo me sarebbe stato il contrario, no? Certo, certo, certo. Ma tu credi che... Grazie per me. Cioè, tu credi qual è l'evoluzione dell'amore in due anni di relazione? Cioè, secondo te in che modo evolve l'amore verso una persona, anche questa che ha così tanto tempo? Allora, all'inizio è tutto bellissimo, tutto molto bello. Cioè, la fase del... Tu idolatri l'altra persona, cioè... Tutto molto bello. Poi, iniziano a vedersi vari problemi, vari difetti dell'altra persona, compresi anche i miei, ovviamente. Si tirano le somme e diciamo che lì inizia l'altra fase, prendi due strade. La prima è, se vuoi, ovviamente, affrontare tutto, tutta l'altra persona con i suoi difetti, eccetera. E l'altra è se vuoi sfancularla. Perché non vuoi. E io che mi hai preso la prima strada. Tu hai preso la prima strada perché i difetti comunque collimavano anche con il tuo... Sì, sì, cioè, non sono difetti esagerati, quindi si trovano... si trovano in equilibrio. E tu credi che... tu lo sposeresti il tuo ragazzo, in generale? Cioè, pensi che possa diventare il tuo futuro marito? Sì, io sono molto bambina, secondo me. No, non è bambina, guarda. E invece... Sono molto sognatrice, in realtà. No, sveglia in più, cazzo, vedi? No, perché di solito le ventenni fanno... Oh, calma, cioè... Va bene tutti, ma c'ho vent'anni, cioè, mi devo vivere la mia vita, adesso aspettiamo un attimo. E invece, cazzo, va bene sognare. Sì, ma la tua vita la puoi vivere indipendentemente dal tuo ragazzo, cioè... Ma infatti, porca miseria. Che bella... Ha una bella testa, sì. Ha una bella testa, cazzo. La tua vita la puoi vivere indipendentemente dal tuo ragazzo. Certo. Bella frase, eh. Brava Gaia Garavaglia. Ma ti chiami Gaia Garavaglia? A parte che suona benissimo Gaia Garavaglia. Sì, è molto... È molto... Musicale. Musicale, musicale. Tu hai mai scritto un brano drill? No. Il tuo ragazzo? No, non penso. Fa musica il tuo ragazzo? No. Che lavoro fa? Fa il direttore di un negozio. Purtroppo non c'entra niente con questa cosa. Con i social. Ok, e tu sei una... Ti hanno bannato TikTok? Ah, sì, l'ho visto. Sei... Hai pianto? No, però... Però smatti. Ci sarebbe piaciuto continuare mai. Certo, certo. E quanti followeri su TikTok, per curiosità mia? 153.000, o comunque 150.000, non di più. Ok, ok. Ma a te piacerà che tipo... Però le persone erano tante in realtà. Cioè adesso ho perso tutto. Tutto. Anche i video. Perché ovviamente li avevo cancellati dalla galleria. Perché non è che mi tenivo tutti i miei video in cui faccio la deficiente. E quindi non ho più neanche i video. Simpatica. Qual è il video che ti era andato meglio? Eh, non lo so, ce ne sono un sacco. Perché hanno fatto quasi tutti 4 milioni di visual, quindi alla fine è un po' tutti. Ovviamente. Ma scusami, cioè, se ti proponessi di entrare in un house, entreresti? Non lo so. Cioè, allora, sicuramente ora come ora, io ad esempio non lascerei mai l'università, quindi... Diciamo che se entri in un house devi abbandonare tutto ciò che fai fuori. Cioè io ad esempio adesso lavoro anche come hostess agli eventi, quindi dovrei abbandonare anche quello. Sinceramente, per fare due video, magari un giorno, due giorni, tre giorni, sì, ma tutto quel tempo che stanno dentro no, sinceramente. Quindi tu becchi anche Sofia in Ulm, dalle rive? Non l'ho mai vista. Io sono in corso con la Valentina Clerici. Ah! Simpatica, vero? Sì. Fa morire. Fa morire. Fuori di... Fuori di testa. Sì, sì. E tu perdonaresti me un tradimento? No. Lo capirei, tra virgolette. Ma capire di che? Non è da giustificare, ma lo... Lo cap... Beh, capirla... Cioè direi, ok, dai, ho fatto la cagata, vabbè, cioè, ti lascio, ma vabbè, potrei capirti. Se è una cosa, ad esempio, di una serata, ok. Però, ad esempio, la mia amica è successo che è stata tradita per quattro mesi di fila, con cene, regali e tutto. A quel punto lì non è solo una versione più buona, c'è. No, no, non con... Minchia, ho uscito il disco. No, però, questo è un buono spunto di conversazione, nel senso, ci sono due tipi di tradimento. Il tradimento, proprio quello sessuale, semplicemente perché uno è trapato e si vuole fare una... Esatto, cioè, quello... Oppure uno... Sì, oppure uno, però è più brutto invece se ti tradisce di più mental... Magari paradossalmente neanche ci fa sesso con quella persona, però è preso da quell'altra persona proprio a livello sentimentale. Tradimento psicologico. Cioè, tu, Simo, se tu dovessi scegliere se essere tradito... Sì, preferirei essere tradito da una scopa... Sì? Sì, forse sì. Beh, allora, in entrambi i casi finirebbe la relazione, però nella prima mi sentirei... Vabbè, però nella prima ti senti non amato, nella seconda ti senti non bravo a chiamare, perché dici, mica, ho avuto bisogno di andare da un'altra. Quindi dici, cioè, mi togli comunque qualcosa. Ma... Però, se è una questione di ormoni, c'hai vent'anni, sei coglione, fatti i tuoi, cioè... Se invece è una questione che per quattro mesi esci a cena con un'altra ragazza, fai regali a un'altra ragazza, cioè... E se un giorno il tuo ragazzo ti chiamasse proprio in lacrime, piangendo, ti chiamasse... Guarda, io su dire sono andato a ballare, c'era la musica trap, e mentre c'era Rondo, io ero ubriaco perso, una ragazza mi ha baciato, io le ho dato il bacio, però poi mi sono tolto subito. E poi ho chiamato piangendo. Dovrei trovarmi nella situazione. Ok, trovatici. Eh, minchia, non è facile, eh. Vabbè, così, linea d'aria. Linea d'aria vorrebbe dire linea di massima. Linea di massima, linea d'aria. Linea d'aria. Linea di massima, non lo so, sinceramente, cioè, secondo me non lo perdonerei. Tu, zio? Cioè, o ci devo pensare un sacco su, cioè, dovrei vedere l'altra persona cosa fa per riconquistarmi, per... Non ho perdonato, era una citazione ad Andrea Di Pre, ragazzi. Che dice... No, prima che... Cioè, sì, è una citazione ad Di Pre che dice, ho picchiato una puttana, non l'ho perdonato. Sì, quindi... Sì, è una citazione, comunque. Scusa, amica, caravaglia, eh, probabilmente. Non devono essere orgogli. Ma perché ti chiami nome e cognome? Tu ti chiami caravaglia. Adesso voglio dirvi un bel aneddoto riguardo ai nomi e cognomi. Vai, vai, vai. Apro una parentesi divertente. Che chiuderemo in fretta, vai. Che chiuderemo in frettissima. Però questa cosa è nome e cognome, è una roba divertente perché è un mio carissimo amico d'infanzia, che sento ancora, che attualmente è uno dei... Uno di pochi grangosti ancora. È uno dei tre, sì, uno dei tre miei migliori amici. Quattro. Più amico di me. Quattro. Più o meno, simile. Perché lui è... Giovanni. Non dovevo dirlo. Vabbè, comunque... A lui non puoi più raccontarlo. No, vabbè, però a lui in passato gli è capitato tanti, 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 tanti anni fa, questa divertente, che aveva conosciuto una tipa su Facebook. Lui si chiamava il suo nome, il suo cognome, con il suo nome abbreviato. E praticamente quando l'ha portata a casa, la tipa, mentre facevano l'amore, l'ha chiamato col suo nome di Facebook. No! Sì, vai, nome di Facebook. E quindi lui si è cringiato, è stato molto divertente. Divertente. Basta. E in quel momento lì cosa fai? Cioè, o ridi? No, a riso, infatti, poi non è... Non è venuto. No, no, non è andata. Non è che poi si è fidanzato. Sì, 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 sì. Ma... Garavaglia, ti piace una domanda. Cos'è che ha detto? Ah, l'ho richiamata così, sì. Scusami, Garavaglia. Ma... Non so, non so. Ho visto che oggi eri con Paolo Iannacci. Ieri sera. Ieri sera. Sì, era un amico di famiglia da un sacco di tempo. In grande. Mia mamma e me andavano alle superiori insieme. Bello, bello. Musicista pazzesco. Grande. Buon boccano. Buon sangue non mente. Beh, certo. Eh beh, direi... Garavaglia, volevo chiederti, ma... Io ti dico una cosa, devi dirmi quanto contiene una relazione questa cosa. Ok. No, da uno a dieci. Allora... Ricettiva lei, eh? Eh? Ricettiva, molto ricettiva. Molto ricettiva. La bellezza del tuo partner? Beh. Sette, otto. Ok, faccia vai, Zio. Beh, otto e mezzo, dai. Vabbè, bellezza che può essere anche soggettiva, eh? Certo. Sì, sì, certo. Certo. Il sesso? Otto, nove. Eh, ok. Ho fatto solo questa domanda per aprire il discorso sesso. Allora... Eh, non so bene. No, allora... Cioè, voglio dire una cosa. Se, eh, tipo... Eh, voi vi trovate in un momento in cui non... Tu non sei più soddisfatta minimamente, sessualmente da lui. Glielo dico. Ok. Eh, però lui... No, ecco, ti faccio una domanda. Se gli tagliassero il pene, tu rimanesti fidanzata con lui? Sì. Che bello. Quindi quanto conta, secondo te, nella relazione con la cosa? Beh, ci sono altri modi di far sesso, no? Ok, si taglia sul pene la lingua e le dita. Vabbè, non c'è più niente, cioè... Scusa, lì, ma scusa. Eh, no, ma... Ok, però ha questo problema qua e succede questa roba. Lo lasci? No, ci sono comunque altri modi. C'è sempre un modo. Allora, diventa un cazzo di bozzolo. No, è vero. Di bozzolo, cosa devo dire? No, ma diventa proprio completamente senza niente che possa avere una forma... No, dai, che cazzo di... Diventa la fascia completamente... Un vegetale. Beh... Non lo so. Cioè... No, è per capire... No, perché stavolta l'avevo fatto un sacco di volte a Valentina. Mi ha detto, ma se io tipo mi tagliassero il pene, O se tipo diventassi proprio completamente un vegetale. Tu, sai, allora è una cosa che fa ridere. Una cosa... Arriva al brother! Mi manca stare da solo In mezzo al mare pure quando è mosso Prendi una barca per starci con me Voglio stare... No, non lo so.